Grazie a tutti. Non deve andare proprio a bloccare sotto. Vedi che va bene così? Ma quando è così? Proprio 2 mm al precilisio? Vuole così. Per me sono un po' di più di 2 mm. Comunque così va bene. Allora. Vogliono così, aperte di quella lunghezza lenta. Ecco, così vanno bene. Così mi piacciono. Perfetto. Quindi adesso? Adesso usiamo un occhio di pavone spellato. E' una sola affinata. Che spellare l'occhio di pavone senza la gomma. Per ridere l'occhio poi lei vergoniosa da spellare. E' una cosa schifosa. Tire, tire e via lì. No, quindi vedrai. Per ridere l'occhio più di più. Ma perché devi dire, devi dire no? Perché lo so. Menti, devi mentire. E così si pella subito. Menta. Menta forte. La sai, no? Quella è una metà forte. Ok, accettabile. E fu così che si gustò. Si piera bene. Sono conosco. Non è che si piera bene. Guarda la mia gazzia oggi. Diciamo che l'abbiamo pelata, dai. Solo per fare i pezzettini di corpo, eh. Perché dopo ci va fatta la saccalare. Ah. Si è notamente poco, giusto? Oh, cappa. Ci andai bene. Intanto ci andai bene. Adesso intanto parliamo. No, non credo. Sono giapponesi questi. No, Francis Campania. No, sono giapponesi. Giapponesi? Sì. Scusa, sono di Maruto. Sì. Poi di Maruto, poi di Tim, poi di Marito. Ma gli intercompanici? Sì, sì. Poi almeno le montagne, le fabbriche. Ma secondo me ci saranno tre o quattro fabbriche in tutto. Di Rai, tre. E come fanno le cose? Le fanno per tutti. Ci sono tanti, non uno. E poi uno ci da... Ci sono delle ditte che dicano la composizione, come lo vogliono, a seconda se le devono registrare. Sì, sì, sul nord è così. Ho visto che questo è molto elastigizzato. Non è anche la storia. Non è anche il produttore di grappa. A fare le grappa con tutti gli altri. Abbiamo messo... Abbiamo messo di dire... Bonollo. Abbiamo... Abbiamo messo di dire una cosa importantissima. La farola per la bocchina o qualcosa... Come bisogna fare il nodo per la ninfa? Eh? Il nodo per la ninfa? Che che? Non abbiamo detto. Sappiamo tutti come avevano fatto il nodo per la ninfa. Mi dà la ricerca? Sì, lo sappiamo. E cosa fai vedere? Beh, dito di una maniera. Ragazzi, la salta al fianco. Sempre quello del dipendolo. E ora... Quello so fare. Quello spot che serve per farlo vedere. E poi sono un giro così, eh. Non credere che sia una cosa incredibile. Viene così. Basta. E' una cosa difficilissima. E' più quello che consumi che quello che utilizzi. Ah, scusami. E' quello lì il nodo per la ninfa? No, il nodo nel filo. Nodo quando leghi la ninfa. Di connessione. E' un nodo nel filo, eh. No, è sul T. Quando... No, è sul T. E' un nodo nel filo. E' più quello che convinced da un rowl objecano. Grazie a tutti.